Ciao e benvenuti nella nostra sede di San Zeno Naviglio. Oggi vi presentiamo la nuova Renault Scenic E-Tec, l'auto dell'anno 2024. La nuova Renault Scenic E-Tec colpisce subito per il suo design elegante e moderno. Ha uno stile deciso, dinamico e sofisticato. Le sue curve eleganti e la silhouette slanciata contribuiscono a un'estetica contemporanea. La parte anteriore incorpora tutti gli elementi distintivi della nuova linea Renault. La calandra ha una forma unica, è divisa a metà con la parte superiore nera che si integra perfettamente con i nuovi gruppi ottici affusolati. La parte inferiore è in tinta con la carrozzeria e al centro spicca il nuovo logo Renault. La griglia inferiore non è così invadente, d'altronde questa nuova Scenic è disponibile solo con alimentazione 100% elettrica quindi non ha bisogno di raffreddarsi come un veicolo termico. Proseguiamo con il nuovo design delle luci diurne e questa bombatura nella parte centrale del cofano. Lateralmente notiamo subito i cerchi da 20 pollici. Un elemento distintivo e dotato di un design molto particolare e futuristico. Guardate come sono dettagliati. Come potete vedere sono quasi totalmente chiusi per favorire l'efficienza aerodinamica e quindi creare meno turbolenze. Continuando con la vista laterale evidenziamo anche qui l'adozione delle maniglie scomparsa, molto eleganti. Questa striscia cromata che percorre tutta la parte superiore dei finestrini che poi si congiunge con lo spoiler posteriore. Altra cosa che apprezza molto è il disegno di questa linea che parte dai fari anteriori e percorre tutta la carrozzeria. Il posteriore di Scenic è molto stiloso. Anche qui notiamo il lunotto basso e il gruppo ottico con un design unico così come quello del paraurti. Concludiamo la parte esterna con le colorazioni disponibili. Bianco, nero, rosso, blu, grigio e grigio satinato. Passiamo ora agli interni. Anche qui prevale un design raffinato e moderno. Come non notare la dashboard open-air, una superficie digitale ad alta definizione da 774 cm2 distribuita su due scherni L da 12 pollici. Molto fluida e coinvolgente. Troviamo poi una striscia LED che percorre tutto l'abitacolo del veicolo, incluse le portiere posteriori. Come potete notare gli interni sono ereditati dalla sorella Megane E-Tech. Quindi la qualità è molto elevata. Ma qui abbiamo un paio di chicche molto interessanti. Vedete il tetto panoramico? Non solo è molto grande, arriva infatti fino ai sedili posteriori, ma è dotato del sistema Solar Bay, ovvero si oscura su quattro livelli, regolabili tramite comandi vocali o manualmente. Altra cosa interessante è sempre qui dietro, il bracciolo Ingenius, che oltre ad essere molto elegante e comodo, offre un vano porta oggetti, portabevande, due porte USB-C, diverse configurazioni per inserire il vostro smartphone o tablet. Per quanto riguarda l'infotainment troviamo a bordo il sistema multimediale Open R-Link con l'integrazione di Google e Android Auto, molto reattivo ma compatibile anche con il dispositivo iOS. Google Play offre l'assistente vocale e più di 50 applicazioni, tra cui Google Maps, sempre aggiornato con mappe, informazioni sul traffico e punte di interesse. È disponibile anche l'app MyReno, che permette di connettersi al veicolo e gestire da remoto i servizi connessi. Infine Scenic è dotata di oltre 30 sistemi di sicurezza alla guida. Nell'abitacolo poi sono distribuiti più di 38 litri di vani porta oggetti, nella console, nei sedili e sui pannelli delle porte. Passiamo al bagagliaio. Di base abbiamo 545 litri, ma diventano 1670 con il divanetto posteriore abbattuto. Scenic Tech è disponibile in tre allestimenti e due motorizzazioni. La Comfort Range da 170 CV, dotata di una batteria da 60 kWh e 430 km di autonomia, e la Long Range 220 CV, batteria da 87 kWh e 625 km di autonomia. Quella che avete visto qui oggi è la Iconic Long Range, il top di gamma. Grazie per aver scoperto con noi la nuova Renault Scenic. Vi aspettiamo nel nostro showroom per farvi toccare con mano tutte le innovazioni di questo straordinario veicolo. Non esitate a contattarci per maggiori informazioni. Alla prossima!